In mattinata, Flavius Daniluk si è sottoposto alle visite mediche. Il difensore austriaco classe 2001 arriva alla Salerintana dal Nizza. Operazione a titolo definitivo da 5 milioni di euro. Contratto pluriennale per il polivamente difensore scelto dal DS De Santis per ampliare le soluzioni a disposizione di Nicola nel reparto arretrato. Dopo Veseli al Benevento si registra anche la partenza di Checrida che approda i greci della Tromitos. Famuro, per ora Simi, che non accetta alcuna destinazione. Restano da piazzare sì Mantovani, Bultam, Galeota Fiore, Jannone, Yarosischi, Capezzi e Christoffersen. Per questi ultimi però il discorso potrebbe essere legato anche alle entrate. In Mediana la Salerintana si riserva la possibilità di ingaggiare un under. In attacco invece, dopo le belle prove fornite ieri da Diabonazzoli Butaim, si è deciso di fare qualche valutazione in più prima di dare l'assalto agli obiettivi affascinanti ma anche molto esosi. La Salerintana non ritiene avere un'esigenza, bensì un'opportunità ulteriore. Negli ultimi giorni di mercato si vaglieranno le diverse possibilità che si potranno prospettare. Sul taccuino restano Bashoi, Piontek, Strand Larsen e Pavlis, oltre a Dobvik. Per ciascuno ci sono costi piuttosto importanti da sostenere in alcuni casi. Bisogna anche fare conti con la volontà dei club di appartenenza di non cederli. Fino alle 20 giovedì però lo scenario potrebbe cambiare.